Buonasera a tutti, Stellina. Ma io credo che questa buona stonuna o tutto l'uomo ne varia n'essere femmina o tutte le femmine ne varia n'essere uomini. O non c'è varia n'essere femmina. Il problema è l'Octavia Meraviglia. È tutto quello che mi è mancato per essere felice, Lucina. Io non mi lascio mai scuridata che se si sa anche a Frascia. Io non ti ripensare. Dove sei, papà? E a te? Che ti manca a te?